La polizia di Stato ha arrestato due uomini, Daniel B. del 1974, cittadino croato e Murat G. del 1996, cittadino tedesco che si sono impossessati di una imbarcazione ormeggiata al porticciolo di Barcola in piazzale 11 settembre. I due sono stati sorpresi dal proprietario della pilotina il quale nel corso di una breve passeggiata in riva al mare li ha visti salire a bordo e armeggiare sul natante con l'intento di prendere il largo. Il tempestivo intervento di una pattuglia delle volanti ha permesso di intercettare i ladri che nel frattempo si erano allontanati di una decina di metri dall'ormeggio senza riuscire ad avviare il motore. Rientrati a riva i due sono stati arrestati. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire e sequestrare a loro carico una bomboletta spray al peperoncino detenuta illegalmente perché contenente una quantità superiore ai 20 millilitri e quindi non conforme alla norma.